Il deceduto della notte sembrerebbe a causa di un infarto. Il sovrintendente di polizia penitenziaria da poco andato in pensione per 35 anni in servizio a carcere di Sulmona. Il sovrintendente Pasquale Leombruno, di 58 anni, sarebbe sentito male, tanto da richiedere le cure ospedaliere. Trasportato a pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata, sarebbe lì deceduto a seguito di complicazioni. Tutti i colleghi del penitenziario Peligno si dicono affranti dalla notizia. La morte di Leombruno fa seguito alle tante altre notizie che hanno riguardato i baschi blu del locale carcere colpiti da patologie cardiovascolari più o meno gravi. Il 58enne era responsabile dell'ufficio servizi del penitenziario di Piazzale, vittime del dovere. Accontentava sempre tutti. Aveva un cuore d'oro, ricordano i suoi ex colleghi.